Buongiorno a tutti, breve recensione del tiracammino Gemi. Come si può vedere questo, il mio cammino aveva un problema, cioè l'altezza troppo grande rispetto alla profondità per cui c'erano problemi di tiraggio che rendevano impossibile pressoché l'accensione. Anche con la creazione di una piccola presa d'aria a muro non avevo risolto. Adesso, come si può vedere, il tiracammino è impostato a 1, al minimo della velocità, eppure tira alla perfezione. Il fuoco è stato appena acceso, da circa 10 minuti, ma non esce nemmeno una lingua di fumo. E' fuori. Montato sulla canna, lui felicemente gira e porta su quello che deve portare. Ho dovuto adattare la canna perché il comignolo era uguale a quello che si vede senza tiracammino, ho dovuto tagliarlo sopra e tappare i buchi laterali per poi incastrarlo con le flange in dotazione e ne sono felicissimo. Acquisto assolutamente consigliato.